Occhie chiusi Con i metodi di占 i giornali che si inccherono tre punti è realizzato per cucina mia. Eccato seas gotta be Ahci Cacca con un grottamitude scarsa foro Euestra è sul teper sui mi själv salta a tre punti Mupp gemacht poi si prendono i pulsati giocati ma se si guarda, che non c'è quello che non c'è Prende anche una addossi il bambino di ciò che non è possibile lo esp졌o per ricevere un'occhiata Prendere tutte le palle la piatta di questo canzoni quando credo che sia un problema Si rinforzi in cena Per uno vero, canto per una notte ha filato posizioni il canto si progetta subito da sotto e riesce a metterla dentro Ligio, un mantova che attacca sui 3-6 Jones da sotto, meno 4 per l'incanto, un gestione per infilare la serie di canestri per gli stings con Pimperi appoggio, sa però riuscirci Ligio a recuperare il pallone e stavolta l'appoggio con sinistrazione, attacca di difesa con l'incanto, trova a ricavare un pedestro dal palletto rewards per le chemise Passagio, uno molto complicato non riesce a metterla dentro Nestruo le sue a seguire la medicare Ad소 una orbano In un primo modo l'alto è un ienergia, non d'er perto 50 po' con me provo a sblocarsi da 3 e ora P confirmation y giro imbalzung e comunque söm at착amente con 3 di Ligio, un uomo, si fa epresso Sì, non è come questi ultimi 20 secondi, Candussi tenuto da Rinaldi, Candussi da sotto, metti due punti per Johnson, ci sono altri punti, Bobby Johnson!